Il corteo sta quindi proseguendo la targa che avevano posato. Assassini! Impiccati a piazzale Loreto tutti! Siete illegali! Il fascismo è illegale! Faccia la culo! Trocci repressi! Metto da stevale doppio! Annegate sul ponte! Tutti giù dal ponte! Il corteo sta quindi! che mi sento di morire e sei con voi da partigiano o bella ciao bella ciao sei un paio da partigiano e tu mi devi sempre in piedi e sempre in piedi e la sua montagna e la sua montagna e la sua montagna e gli atti e la sua montagna e l'ombra di inverno fate cagare verde senza amore quando vi vedo vi vedo che faccia che facerà come qui e la sua montagna e la sua montagna e la sua montagna e la sua montagna ritardati e la sua montagna e la sua montagna e questo è il fiore del partigiano ma lo so che è la libertà e questo è il fiore del partigiano ma lo so che è la libertà verde ha chiamato il nord Italia è passato dal centro di Pavia sono entrati sul ponte coperto e qui appunto la polizia non consente altri spostamenti e penso che se ne andranno appunto in Borgo Ticino dove era la destinazione di questa manifestazione così mi hanno detto per posare una targa in memoria di questo fascisti parogne tornate nelle forne fascisti parogne tornate nelle forne fascisti parogne tornate nelle forne fascisti parogne direi che non c'è più niente da vedere